Soprava ad uscire con il tocco verticale, Serafini prova! 1-0 Brescia, ma dov'era Buffon? Era fuori nettamente, è stato bravo sto ragazzo, guarda lo rivediamo, che guarda dove è messo Buffon e lui da 30 pischi a metri fa il pallonetto e Buffon non può farci niente. Però lì ha sbagliato la difesa perché sia Zebinà che Chiellini praticamente non hanno chiuso. Serafini è pescato del nero, eccolo qua sul filo del fuorigioco ma a posizione regolare perché Zebinà lo teneva in gioco, guardate non ci pensa due volte, il destro, Buffon era dalle parti del dischetto del rigore, Brescia in vantaggio, i fantasmi di Mantova dopo 4 minuti. Comunque è stato bravissimo sto ragazzo perché Buffon si dice questa cosa qui intanto. Palla su Amsic, numero di Amsic su Cristiano Zanetti, grossi in mezzo, Serafini! 2-1 Brescia, gol bellissimo. E questo da un errore difensivo è venuto fuori il calcio tango, l'hanno preso con il 2-1. E qui Buffon c'entra poco ma Serafini riempie di una nuova gemma una partita fin qui perfetta per lui. Pensa rovesciata, eccolo, rivediamo. Eccolo qua, gran lavoro di Amsic, Serafini in mezzo, perfetta scelta di tempo, tocco vincente. Proprio in un momento nel quale la Juve stava prendendo il controllo della situazione, stava facendo gioco, controllando il possesso del pallone. Ma ancora una volta, se vogliamo, tutto è nato dalle incertezze difensive, da quella incomprensione colossale fra Bunzong e Chiellini, dalla quale poi è nato il calcio tango. Da come è partita la squadra? Io l'ho visto subito che non erano ancora. E' un'87, questo l'ancio. Scacola nel stadio del 2004, attenzione intanto, ancora Serafini! Questa è una partita perfetta, questa è una giornata indimenticabile per Matteo Serafini. Ma anche qui si è fermato Zepinà, questo ha fatto un gol, c'è uno più bello dell'altro, non c'è niente da dire. Però qui non ti devi fermare. Adesso lo vedi, Pierluigi. Buffon sorride, è la reazione del grande giocatore. Avete visto Cosmi, ma è bello l'alternanza di stato d'animo che viene mostrata nelle nostre telecamere fra Cosmi e Buffon. Qui fa una gran cosa su Zepinà, va via, c'è anche il gioco pericoloso, il vantaggio. Un gol straordinario, tre gol, uno più bello dell'altro. Niente da dire, niente da dire a questo ragazzo, veramente complimenti. Ha fatto lo stesso che Buffon, poi non... Guarda qua, la colpisce con l'esterno del piede quel tanto, prende il palo e va dentro. Niente da fare. Il 10 marzo del 2007 non sarà mai un giorno come tutti gli altri per Serafini e forse anche per Ibrex, che chiude il primo tempo 3-1.